Buonasera ragazzi, da parte di Federico Town, oggi sono qui per parlarvi della partita fra Udinese e Lazio ebbene, torniamo alla vittoria, vittoria per 1-0 grazie alla rete di Ciro Immobile Ciro Immobile si risblocca di nuovo, molto importante questa partita perché ci permette di avvicinarci sempre di più al traguardo della Champions buona prestazione contro una squadra veramente molto tosta come l'Udinese che non ha mai perso a casa e per la prima volta perdono con noi, un rigore che era netto per quanto ne abbiano detti detto i dirigenti di Udinese e i giocatori e l'arbitro non è stato, non ha diretto la gara benissimo perché ci sono tanti cartellini gialli che mancano all'Udinese però alla fine contava solo vincere, il primo tempo non era fantastico da parte della Lazio poi il secondo tempo abbiamo giocato benissimo, Luis Alberto ha fatto una prestazione eccezionale Milinkovic sempre male, secondo me è ora di darlo via quest'estate e adesso dobbiamo cercare almeno di chiudere in bellezza, vincere le ultime due partite fare delle buone prestazioni adesso la Champions si avvicina sempre di più stiamo facendo una buonissima stagione è vero che in questi ultimi mesi non stavamo giocando molto bene avevamo buttato per strada molti punti soprattutto contro il Milan e l'Inter e il Parigi contro il Lecce insomma quando la Lazio gioca e fa la Lazio mette difficoltà a qualsiasi avversario non era scontata comunque questa vittoria perché l'Udinese è una squadra molto organizzata, una squadra molto fisica ha un bravissimo allenatore, sottilla, grandi capacità e non pensavo che ce l'avremmo fatto onestamente perché pensavo che i ragazzi avessero perso un po' di fiducia però era importante tornare a vincere e cercare di centrare l'obiettivo che è la qualificazione della prossima Champions League siamo veramente vicinissimi adesso ci aspetteranno due partite comunque toste una contro la Cremonese in casa e quella contro l'Empoli quindi dovremmo essere molto concentrati e non fare più passi falsi e vincere le prossime due partite perché mi farebbe comunque piacere terminare con due vittorie invece che di due sconfitte o un pareggio e insomma dobbiamo essere comunque soddisfatti per la stagione che stiamo facendo ragazzi per oggi è tutto grazie per avermi ascoltato e come al solito se vi piace il canale non esitate ad abbonarvi non dimenticare di lasciare un bel like e alla prossima, ciao!